Archiviata la ricca stagione degli eventi estivi, Ragalna, con l'ingresso in autunno, si preparano nuove manifestazioni legate alla valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e dei luoghi predisposti a diventare attrazione turistica. La cittadina etnea vanta una tradizione importante sul piano erno gastronomico, l'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Caruso è quello di accelerare sul fronte dell'accoglienza ai visitatori, promuovendo nuove manifestazioni curate nei minimi particolari. Partiranno come ogni anno fine ottobre con un'impronta diversa, un'impronta nuova per quella che è la promozione del nostro territorio. Le novità più importanti è che verranno identificate tre aree diverse, che è quella dell'agricoltura, l'area food e l'area artigianale, in modo che diamo la possibilità ai visitatori di poter visitare al meglio quello che è il nostro territorio con le varie sfaccettature presenti e la varia produzione della nostra terra. Quali sono i prodotti che verranno più esposti? Ma non può mancare sicuramente la mela dell'Etina e anche nello specifico la mela gelato cola e poi oltre a tutti i prodotti che verranno esposti sono anche le verdure selvatiche, che sono anche un nostro fiore all'occhiello del monte Etina. E poi oltre a questo vogliamo fare tutta una serie di eventi, di spettacoli che possono intrattenere il nostro pubblico e non fare un mercatino a fine a se stesso. Mangaranno le calicede? Sicuramente sì, è una verdura spontanea del monte Etina e chi meglio di Ragalna, insieme poi alla sagra, salsiccia, calicede e vino, esprimere al meglio in tutte le sue pietanze. Venite a Ragalna, troverete novità, troverete gusto, troverete simpatia, troverete amore per il territorio. Aspettiamo tutti a Ragalna, non solo gli amici del territorio Etina, ma anche chiunque venite a apprezzare il nostro territorio e la nostra qualità. Grazie a Ragalna.